E' finalmente giunto al termine l'incubo di Pippo Franco e della moglie che per mesi, come riportato dal quotidiano alla Repubblica, sarebbero stati a lungo perseguitati dalla colfe e dal compagno al fine di convincere il comico ad assumere un conoscente come giardiniere e guardiano della loro villa alloggiata alle porte di Roma. Pippo Franco e Piera Bastino hanno ricevuto in questi mesi chiamate intimidatorie, minacce continue, hanno addirittura subito un tentato furto lo scorso Natale, inscenato ad opera della governante che ha fatto credere loro di essere diventati il bersaglio di una pericolosa banda criminale. Una lunga e accurata indagine della polizia ha permesso agli inquirenti di assodare il piano d'abolico architettato ai danni del popolare comico del bagaglino e della moglie. L'ex golf e il compagno, entrambi i cittadini romeni, sono stati denunciati con l'accusa di tentata, estorsione aggravata e minacce. L'attore 76enne non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito all'incresciosa vicenda che suo malgrato l'ha visto protagonista. Per fortuna l'incubo è finito e l'ex golf è stata smascherata dalle forze dell'ordine.